Mi arrivano telefonate dei miei concittadini disperati, non solo preoccupati per questa emergenza sanitaria del coronavirus, ma hanno problemi per far fronte all'acquisto dei beni necessari. E quindi io ho pensato di donare la mia indennità con il bonifico presso al Banco di Raccolta Alimentare e domani ci sarà, per conto del Comune di Foggia, grazie all'ausilio delle associazioni, avanti ai supermercati, la raccolta al Banco Alimentare che sarà poi distribuito attraverso l'utilizzo dei centri Caritas. Cari cittadini, cerchiamo di manifestare genosità nei confronti delle famiglie che oggi stanno avendo maggior bisogno che non solo la preoccupazione sanitaria ma anche quella economica. Quindi diamo quello che possiamo e vedete che insieme ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare e ce la faremo. Andrà tutto bene.